Il grande fratello VIP è ufficialmente tornato. Si è da pochi minuti conclusa la prima puntata della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini, che quest'anno si svolge in uno studio rinnovato e all'interno di una casa nettamente più grande rispetto a quella delle scorse edizioni. L'esordio del GF VIP 7 si è aperto con i saluti di rito del conduttore al pubblico e alle sue opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che ha parlato per tutto il tempo solo di sé. Confusa dal format, Alfonso Signorini ha dato il via alle danze introducendo la teorica entrata in scena della controversa Pamela Prati. Il pubblico televisivo se la ricorda ovviamente per i suoi deliri alla prima edizione del GF VIP e per tutta la vicenda di Mark Caltagir. Come c'era da aspettarsi? La Prati non si è presentata subito dopo la prima chiamata, per farsi vedere soltanto in un secondo momento. La Subrette Sarda ha fatto il suo ingresso poco prima di mezzanotte. Danzando e cantando sulle note di un ritmo latino. La prima vera concorrente ad entrare nella nuova casa è stata Cristina Quaranta. La ex non è la RAI oggi reinventatasi cameriera. Subito dopo ha fatto il suo ingresso Antonino Spinalbese. Accolto da un, ammazza quanto sei bono, dalla prima inquilina ufficiale della casa. Spinalbese non ha mai fatto il nome di Belen Rodriguez nella clip di presentazione. Nonostante sia chiaro che ben presto sarà costretto a parlare di lei e nonostante Signorini stesso abbia provato a stuzzicarlo. Ottenendo da parte sua solo tenere dichiarazioni sulla figlia Luna Marie. Che ama tanto e di cui già sente la mancina. Ginevra Lamborghini è stata la terza. La cantante ha raccontato dei suoi rapporti ormai chiusi con la sorella Elettra. Unico motivo per è una concorrente di questa edizione. Evidentemente. Poi è stato il turno di Charlie Gnocchi e di Elenoir Ferruzzi. Due personaggi agli antipodi che però fin da subito. Fra una battuta e l'altra. Hanno fatto amicizia. Dopo il primo blocco pubblicitario è entrato in scena a Mauriz Perez. Che è stato invitato da Signorini a regalare ai telespettatori uno spogliarello sexy e un rocambolesco ingresso nella casa. La sua entrata ha tra l'altro dato il, la, a Signorini per lanciare la prima vera frecciatina della serata. Quando l'ex sportivo è entrato, infatti, Signorini ha chiesto a Orietta Berti se il Bella Mauriz non le ricordasse Fabio Fazio. Che ha di recente, tradito, per andare al GFVP in veste di opinione.